Potrebbe essere l'anno buono per le strade provinciali, quantomeno sul fronte di quei finanziamenti da tempo attesi per la manutenzione di alcune arterie interessate da forti dissesti. Così si esprime oggi il Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'annunciare che il Patto per il Sud, siglato lo scorso settembre, rende disponibili stanziamenti per oltre 16 milioni di euro per i progetti di manutenzione redatti dai tecnici del settore infrastrutture stradali. 7 milioni 300 mila euro riguardano le strade del comparto ovest, 6 milioni 100 mila euro quelle della zona centro-nord, mentre 3 milioni 405 mila euro sono destinati al comparto est. A questi vanno aggiunti i 6 milioni 500 mila euro stanziati per l'ammodernamento della strada provinciale 17 Raffadali Siculiana attraverso il programma operativo complementare per la regione siciliana. Il Libero Consorzio, in attesa dei relativi decreti di finanziamento, sta ultimando tutti i progetti per i quali è già stata prevista la copertura finanziaria, con buone possibilità di avviare l'iter per i bandi delle gare d'appalto entro il 2017, per migliorare, sia pur parzialmente, la situazione della viabilità interna, in particolare quella di collegamento tra i centri più isolati e privi di altre infrastrutture. Una situazione che oggi è praticamente al collasso per l'assoluta mancanza di adeguate risorse finanziarie, in grado di garantire anche la sola manutenzione ordinaria. A proposito di viabilità, oggi è stato il giorno dell'inaugurazione del raddoppio della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Si tratta in realtà del primo lotto. I lavori per il secondo lotto sono ancora in corso e l'ultima azione è prevista per il 2018. Al taglio del nastro hanno preso parte i ministri Graziano Del Rio e Angelino Alfano, il presidente nazionale dell'ANAS, l'assessore regionale alle infrastrutture e il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Dedico questa apertura ai familiari delle vittime della strada, ha dichiarato il ministro Alfano. Una vera e propria svolta per la rete viaria siciliana, secondo il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani. Complessivamente, ha spiegato, si risparmieranno 40 minuti per andare da Agrigento verso Catania e verso Palermo. Un cantiere che impiega oltre mille persone per un totale di circa un miliardo di euro di investimenti. Nei giorni scorsi era stato il segretario provinciale della CGL Massimo Raso a polemizzare sulla cerimonia di oggi in Pompa Magna. Non c'è nulla da festeggiare, una statale che viene inaugurata a piccoli tratti e non ancora completata e una viabilità provinciale pietosa, aveva dichiarato Massimo Raso.